Intro Bella gente benvenuti in questo nuovo video signori Oggi siamo nello snapshot 21v14a Che va ad aggiungere delle cose interessanti per i minerali In particolare il ferro, il copper e l'oro Che hanno come vedete delle forme diverse Proprio questi tre, i tre blocchi di minerale Che non subiscono l'effetto di fortuna Oggi cambia tutto Ma prima di cominciare voglio dire che in questo momento Siamo in live sul sito Viola Vi invito a passare, trovate il link in descrizione Dove analizziamo insieme lo snapshot E vi invito ad entrare anche nel mio nuovo server Discord Trovate anch'esso in descrizione Detto questo direi di cominciare Allora, novità meno importante e un po' di sottofondo è questa Che ora con l'Oneycomb Oltre ai vari altri blocchi di copper Che sono tutti questi qua Si può cerare pure questo qui Si può renderlo cerato se così si può dire Come già avevamo visto in uno dei precedenti snapshot Novità di sottofondo Nulla di particolarmente interessante Ma le vere novità, come vi ho detto, stanno qui Abbiamo il raw iron Il raw copper e il raw gold Dei minerali davvero, davvero interessanti Sostanzialmente ora signori Se ci mettiamo in game mode survival E andiamo col piccone con fortuna Che è questo qua A prendere questi minerali Ora, invece che ricevere il minerale L'iron ore, il copper ore, il gold ore Riceveremo signori I fantastici raw gold Questo potete farlo con qualsiasi piccone Ma ora, la novità sta nel fatto che Prima i minerali di ferro Ore e copper Non potevano essere Diciamo applicabili con l'effetto di fortuna Se trovavi un pezzo di ferro Ne trovavi uno Ora signori, invece Se abbiamo fortuna nel nostro piccone Possiamo trovare Come adesso Quattro pezzettini di ferro Semplicemente da un pezzo di minerale Da un blocco In questo caso Da uno spacchiato Con fortuna 3 Otteniamo Vediamo un po' Cinque No, anteriore a quattro Perché ne avevo uno prima qua Quattro pezzi Signori Di raw gold Lo proviamo a rifare Ora sono nove Guardate un po' E ovviamente ciò possiamo farlo Con ogni piccone Con questi tre minerali La novità di questo snapshot Quindi sostanzialmente Sta nel fatto che Con un piccone Qualsiasi Non otterremo più Copper ore Iron ore E gold ore Ma questi tre pezzi di raw Che una volta Inseriti all'interno Di una fornace Ci daranno I rispettivi Lingotti Come eravamo abituali Prima Vediamo qua Ecco Gold ingot E ok Ci sta Ci sta Ci sta E voi vi direte Come si fa allora Dopo questa Ad ottenere il minerale Magari lo volete usare Per buildare Molto semplice Piccone Con Silk touch Game mode Ovviamente Survival Avviciniamoci E come vedete Otterremo i nostri Minerali Praticamente Fino allo Snap 21 V 13 A I nostri picconi In questo caso È come se avessero avuto Tutti Silk touch Mentre finalmente Invece Anche questi minerali Godono dell'effetto Di fortuna Potremo ottenere Tanto più ferro Andando in miniera Rispetto a prima Semplicemente Se ovviamente Abbiamo un piccone Con fortuna Come vale Per gli altri minerali Novità interessante Snapshot Molto carino Ma Già finito qui Nient'altro Queste sono le novità Perlomeno Trasparenti Sullo snapshot 21 V14A Ora signori Vi aspetto a tutti Live sul sito viola Per analizzare insieme Questo snapshot E mi raccomando Entrate anche nel discord Grazie mille per l'attenzione Ci vediamo Signori In un prossimo video Da Andernico è tutto Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi